qua grazie quinto in barriera 8-20 Gianni culi il numero 4 sullo mio angoli contro terzo di via 8 entra al 20 l'altro è 11-19 la linea è culi io io dai 8 Lorenzo Lorenzo in avanti gioca il primo il primo l'educazione l'educazione è un quarto d'ora scusa l'educazione è un quarto d'ora l'educazione